Ottobre è stato un mese positivo per il centrodestra, almeno a giudicare dai sondaggi politici Fratelli d'Italia non solo mantiene il primo posto, ma vede il P di allontanarsi. Forza Italia cresce e distacca il Movimento 5 Stelle, la Lega torna a guadagnare consensi in un periodo decisamente complicato Tra i partiti dell'opposizione, invece, sono pochi quelli che possono rivendicare un risultato positivo Ecco i risultati del nuovo sondaggio di Tecne per l'Agenzia Dire.Fratelli d'Italia è al 29,6% e, come detto, resta il primo partito del paese senza rivali La crescita dello 0,2% nell'ultimo mese non è particolarmente significativa, ma conferma che il partito di Giorgia Meloni ha il consenso di poco meno del 30% degli italiani, tra quelli che dichiarano le loro intenzioni di voto Una soglia da cui raramente si allontana molto, a ribasso, e che ogni tanto riesce a superare, nelle rilevazioni Per il Partito Democratico, al 23,1%, è invece un momento di calo Il sondaggio mostra un meno 0,6% rispetto a un mese fa, il calo più significativo tra i partiti nella rilevazione Certo, i dem di Ellis Glenn nei sondaggi effettuati prima di giugno riuscivano a fatica a superare il 20%, e il successo al voto delle elezioni europee ha garantito un passo avanti di qualche punto Ora, però, almeno stando al sondaggio quel vantaggio guadagnato è in calo. E Fratelli d'Italia resta a oltre 6 punti di distanza Al terzo posto si piazza Forza Italia con L11, 3% e un guadagno dello 0,2% in un mese Le rilevazioni di Tecne spesso danno un risultato particolarmente generoso per Forza Italia rispetto alla media nazionale degli altri sondaggi, ma resta il fatto che questo risultato consente Afi di affermarsi come terzo partito del paese Va bene anche la Lega, 8,4% e con un più 0,4% Il partito di Matteo Salvini resta la terza forza del centrodestra, con una nuova girarchia che ormai molti dei sondaggi nazionali confermano In mezzo ai due che è il Movimento 5 Stelle al 10,6%. Stando alla rilevazione, il guadagno dell'ultimo mese è appena dello 0,1% Un risultato di sostanziale stabilità su una percentuale di consensi che non può soddisfare le M5S di Giuseppe Conte, alle prese con un'assemblea costituente Ma anche con il conflitto interno con Beppe Grillo e con il risultato dell'Udente in Liguria, dove il partito ha raggiunto solo il 4,5% dei voti Tra le altre forze di opposizione, Alleanza Verdi-Sinistra scende al 6,2% perdendolo 0,3% La situazione di Avies è simile a quella del PD, per certi aspetti, alle europee di giugno aveva superato di gran lunga le aspettative Andando oltre il 3,4% stimato dai sondaggi e raggiungendo il 6,8% Il calo dell'ultimo mese quindi è una brutta notizia, ma lascia comunque il partito in una posizione migliore rispetto all'inizio dell'anno Ci sono poi gli schieramenti di centro Azione di Carlo Calenda scende al 2,6% perdendo Banno 0,4% Poco dietro si piazza Italia Viva di Matteo Renzi con il 2,3%, dopo un guadagno dello 0,3% Chiude la rilevazione più Europa, il partito di Emma Bonino, 1,9% dopo una crescita dello 0,2% Grazie Grazie Grazie